Riportare le periferie al centro della città è uno degli obiettivi scritti nero su bianco nel programma elettorale di Laura Di Pilato in corsa per la carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Andria del 20 e del 21 settembre. La candidata, supportata da quattro liste civiche, sta proseguendo il suo giro tra i quartieri della città federiciana per raccogliere le istanze dei residenti. L'ultima tappa, in ordine di tempo, è stata quella della zona di Via delle Querce, scelta come luogo simbolo dalla candidata tra le periferie dimenticate dalla precedente amministrazione. Questo è un emblema dell'abbandono e di quello che non è stato fatto, proprio delle cose veramente assude, la piscina comunale, da dove è nato tutto, ci devono 600 mila euro e forse non ce li daranno più perché forse non hanno più niente da perdere, è stato emesso un decreto ingiuntivo, io non conosco gli esiti, però voglio dire sono soldi persi al comune di Andria. La questione della piscina comunale riapre una ferita ancora aperta che è quella relativa allo stato di abbandono di molte strutture sportive della città di Andria. Un problema più volte tirato in ballo in questa campagna elettorale dalla candidata a sindaco di Pilato che promette, in caso di vittoria alle urne, di tendere una mano a società sportive e associazioni. Parecchie strutture sportive sono in stato di abbandono, non dimentichiamo la pista di pattinaggio che ci fa sorridere per come siamo stati presi in giro quel giorno dell'inaugurazione, anche noi consiglieri comunali si rideva, sembrava che il giorno dopo tutto dovesse cominciare a svolgersi, invece no, è stato usato da un loro candidato adesso in lista, nelle liste del discamarcio solo perché faceva spinning, vergognoso perché se non c'era il collaudo non poteva manco espletare quella manifestazione e poi è stata chiusa di nuovo. Quindi uso e consumo delle cose pubbliche per le proprie capacità. Bisogna innanzitutto parlare con l'ufficio finanziario, cercare di abbassare le tariffe che ormai sono raddoppiate, triplicate, quindi per loro diventa impossibile usare Sant'Angelo dei Ricchi, il palazzetto dello sport e non possono iniziare i campionati. So che il commissario Tufariello in itineri sta modificando una delibera che uscirà, forse quando andrà in onda questa intervista già sarà uscita, non lo so, voglio sperare perché purtroppo quei ragazzi hanno bisogno delle strutture. Il 4 ottobre iniziano i campionati e adesso sono tuttora fermi, quindi lo sport ad Andria al momento è fermo e questo noi non lo possiamo permettere.